Ci sono tante defezioni per domani sera e quindi diventa difficile fare una formazione che possa somigliare a quella, quindi vediamo domani, faremo la conta e quindi cercherò di mettere in campo la formazione migliore in questo momento. Come avete visto siamo in ritardo sotto l'aspetto dei numeri e anche a livello fisico, cercheremo chiaramente di fare una partita vera, finalmente, anche perché poi quando si disputano amichevoli contro squadre alla portata così leggere che ti possono permettere magari di migliorare quelli che sono automatismi, dall'altro lato magari a livello psicologico, a livello di cattiveria agonistica, non è facile caricare le batterie per mettere in campo alcune componenti. Quindi dico finalmente, a noi in una partita vera vediamo un po' a che livello siamo, non soltanto fisicamente ma anche a livello di carattere, di motivazioni e di determinazione. Queste partite sono difficili perché arrivano in un momento, come poi è successo anche nel precampionato dove incontri squadre che non hanno nulla da perdere. È vero che l'avversario è di un livello assoluto e quindi quando queste squadre vengono, soprattutto in una squadra che è appena retrocessa, che ha fatto la serie qui a Crotone, non avendo nulla da perdere fanno la partita dalla vita. E come tale bisogna avere a livello di motivazioni, e lo ripeto, motivazioni, determinazione, attenzione. Credo che in questo momento possano fare la differenza per far emergere quelli che possono essere i valori individuali dei giocatori in campo. Ho chiesto alla società di mantenere l'ossatura dell'anno scorso perché secondo me è un'ossatura importante, è una squadra che può fare da protagonista questo campionato. Non è facile dire giocheremo per vincere perché in molti avete visto anche il mercato come sta andando e soprattutto gli altri hanno il vantaggio o hanno avuto il vantaggio di non avere queste vicissitudini societarie. Perché egoisticamente vi dico da professionista vengo in un posto nuovo, metto un po' le mani avanti. Quindi giustifico quello che potrebbe essere il mio percorso qua e il percorso della squadra. Non è semplice non aver ancora formato la squadra in questo momento e non vedo l'ora che finisca il mercato perché insieme alla società stiamo cercando di fare la squadra. Arriveranno giocatori anche la settimana prossima e stiamo cercando di prendere giocatori che possono venire qui a dar forza e autostima a quelli che ci sono. Diventa troppo importante per me avere finalmente una rosa finita e definita per poter lavorare in una certa maniera. In questo momento non è così. Non vorrei prendere squalifiche in merito e non voglio espormi a dire veramente quello che penso. Mi limito a dire soltanto una cosa. Ci sono delle regole che devono essere rispettate. Scusate se sono banale e faccio una considerazione su una frase fatta. Però è così. In questo momento sto alla finestra ma l'avevo forse già detto. Mi sento allenatore del Crotone in Serie B ma al cento per cento.